Siamo allora dal sottosegretario di Stato all'interno, Achille Variati. Di nuovo benvenuto, mi scusi se abbiamo fatto aspettare, ma ci ritenevamo giusto vedere le regioni una per una, capire i loro problemi prima di venire da lei, il tema sicurezza, il tema controlli, il tema verifiche, anche sugli spostamenti, abbiamo parlato tantissimo, lei era collegato, la vedevo, del tema spostamenti comune-comune per esempio. Abbiamo letto anche dei droni, l'utilizzo di droni per i controlli. Innanzitutto mi consenta di dire che il governo ha sposato una linea del rigore, della responsabilità, direi della necessità. Le restrizioni natalizie sono state assunte con grande difficoltà da parte del governo, perché non siamo dei matti, non siamo gente che vive nella luna, sappiamo cosa significa il Natale, anche dal punto affettivo tra le persone. Ma, guardi, le porto un esempio molto concreto e vero. Qualche giorno fa c'è stato degli amici che hanno festeggiato un compleanno del loro padre, la settimana o l'altra, un compleanno di 80 anni. Ora sa che quel loro padre non c'è più, perché uno di coloro che era andato a questa festicciola di famiglia, senza saperlo, era positivo e ha trasferito il virus al proprio congiunto 80enne al cui ha avuto le difficoltà respiratorie. Cioè, in questo periodo, lo stare insieme, il cenare insieme, il pranzare insieme, che abbiamo sempre fatto e che faremo in futuro, è un pericolo terribile, soprattutto per le persone più anziane. Ecco, quindi tutte le restrizioni che voi avete anche raccontato poco fa, hanno un filo conduttore. Il filo conduttore è cercare di non diffondere la pandemia in questa fase, perché da gennaio in poi noi non abbiamo bisogno di avere gli ospedali pieni di pazienti, delle terapie subintensive, delle terapie intensive. Perché? Perché soprattutto da gennaio, febbraio, marzo, aprile, noi dovremmo fare il grande piano di vaccinazione del Paese, per mettere in sicurezza il Paese e metterci una pietra tombale su questo anno disgraziato che abbiamo attraversato. Tutto qui. E siccome ci sono dei momenti in cui chi ha la responsabilità, oggi è questo governo, domani magari sarà un altro, oggi è questo governo, chi ha la responsabilità la deve esercitare. E il consenso va perseguito, ma non può diventare quella molla che ti impedisce di fare le cose che responsabilmente tu come governo devi fare. Lei mi chiedeva dei controlli, i controlli ci saranno. Normalmente ogni giorno ci sono 80.000 cittadini che vengono fermati e controllati e all'incirca 15-16.000 negozi. Saranno, durante tutte le festività, preannuncio che questi interventi saranno ancora più intensificati, saranno ancora più intensificati nelle stazioni, nei caselli autostradali, nelle strade provinciali. Faremo i controlli, la polizia, i carabinieri ci saranno e faranno questo ulteriore servizio ai cittadini. Insomma, lei ci sta dicendo non fate i furbi, non pensate che con la scusa di andare a trovare lo zio, vabbè, saremo di manica larga e ve la faremo passare. Questo mi parla di aver capito. Dovremmo stare attenti. Sugli anziani però, le chiedo questo, perché c'è un doppio problema. Da un lato, d'accordo, è pericoloso, per esempio, che i bambini, i nipotini, non sapendolo, possano contagiare i nonni e il contagio per loro sarebbe davvero gravissimo, se non in alcuni casi, speriamo di no, mortale. D'accordo, però c'è il tema degli anziani soli, che vivevano il Natale, uomini, donne, che vivevano il Natale come un vero momento di ritrovo della famiglia. Lì ci sapotrà, perché abbiamo letto anche questo, che nei confronti dei nonni ci saranno delle regole meno, diciamo così, stringenti. È vero o no? Dunque, innanzitutto, se abbiamo un nonno che ha dei problemi di assistenza, che ha dei problemi di salute, non c'è dubbio. Potrà essere il figlio, potrà sicuramente recarsi dal proprio padre per aiutarlo, per stare insieme durante il Natale. Se il proprio genitore, il nonno, sta bene, guardi che l'atto di affetto più grande, non è terribile, l'atto di affetto più grande è quello di non andarci, di non andarci. Sarà l'unico Natale. Ci stanno rubando, il Covid ci sta rubando il Natale, d'accordo, ma non facciamo gesti, siamo veramente responsabili. Certo, certo. Abbiamo perso qualche parola degli ultimi secondi, del suo intervento, ma è chiaro, non facciamo gesti dai responsabili. Il messaggio è stato molto chiaro dal Ministero dell'Interno. Grazie, grazie ad Achille Variati di aver speso tempo qui al PG4 in diretta, ma era giusto sentire dopo le regioni la voce del centro del governo della sicurezza. Pausa.